Quella del 19 febbraio sarà una domenica di riposo e preparazione per il nuovo basket aquilano. Il campionato di Serie C Gold ha infatti esaurito la prima fase della stagione con le gare dei gironi di andata e ritorno. E ora l'attenzione è tutta puntata sulla fase a orologio che inizierà il 26 di febbraio. Il nuovo basket aquilano ha chiuso le sue prime 18 partite con 14 vittorie e 4 sconfitte, attestandosi al terzo posto della classifica dietro Roseto 2020 e Amatori Pescara. Tutte e tre le squadre sono a quota 28 punti in classifica, ma nel confronto con Rosetani e Pescaresi gli aquilani hanno pagato gli scontri diretti sfavorevoli. Il calendario della fase a orologio del campionato di Serie C Gold non è ancora stato diramato, ma comunque, come tradizione, prevederà nove giornate di sola andata che dureranno fino al 30 di aprile. Al termine, la squadra prima classificata sarà ammessa al nuovo campionato interregionale che partirà nella stagione 2023-2024. Le compagini classificate dal secondo al quinto posto invece daranno vita ai play-off. Serie da tre partite con fattore campo favorevole alle squadre meglio classificate che quindi potranno giocare l'eventuale gara 3 in casa. Le semifinali saranno subito decisive in quanto le due vincenti, oltre a giocare la finale, conquisteranno la missione al campionato interregionale 2023-2024. Le due squadre sconfitte in semifinale invece si incontreranno tra loro, sempre con serie al meglio delle tre partite, per decidere quarta e quinta classificata, questo nell'ottica di eventuali integrazioni all'organico del nuovo campionato interregionale. All'Aquila comunque la prossima non sarà una domenica senza pallacanestro, infatti nel campionato di promozione sarà in programma il derby cittadino tra Basket 2K5 e GS Pallacanestro. L'appuntamento è alle 18 al Palazzetto dello Sport Giovanni XXIII nella frazione di Paganica.